Grazie Siete bellissimi Questa è la canzone dedicata ai BMC Io dico Mene, voi dite Kelly, Mene, Kelly, Mene, Kelly Io dico Laki, voi dite Dana, Laki, Tana, Tana Questa, come già anticipato, la dedichiamo ai BMC è il mio primo pezzo rap voi siete un po' clementi invito Paris, buon Matteo Paris il ragazzo francisi potete tenersi a noi Matteo Paris sarà le tastiere per noi in questo pezzo eccolo che è lì oh yeah, Matteo Paris vi dico solo che sta il sesto anno di conservatorio raga, pianoforte è già insegnante a 19 anni sì, ma quelli là sui banchi venite qua venite, venite, venite venite oh, venite qua su tutti qua su, su, su su oh, 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 oh oh, oh, oh anch'io vorrei fare del mio friggere la mano anch'io delle funky, quello che tra i tanti manchi di questo paradiso interno, inferno esterno però chiusi i video stilieci con i tanti, ah, questa musica è radiale ti entra dentro e qui niente ci vuoi fare vuoi solo godere delle dita azioni che provocano l'impressione delle azioni senti come sale non sempre trova è tutto un circolo vizioso di cui io sono il capo il più iniziato mi trotto bene ascolto un po' di cini trappi facchi prendo bene tutto bene oh yeah la base prende forma se ci conoscano strumenti così da non sentire più la metti su la metti cerchi di andare avanti senza rimpiarti anche se poi davanti quanti sono il cuore infatti sai i bianchi che mi sono fatto e sai i gioi che mi sono fatto l'uno con l'altro non c'entra in un caso quindi se vuoi vuoi anche darmi del fatto ma forse il funk è proprio questo l'unione tra una forte emozione e lo sbarro della sensazione un manchigegno infernale in cui è facile entrare e tu sai uscire uscire da questo mondo che anche se non è tutto è più profondo non te nascondo ogni miscino alla fantasia che vado a sfondare più vagabondi in cerca di compagnia se non vediamo ci ponte più furibondo che mai a conto di uno che fono nel tuo racconto devo dormire lo sai devi non piangere e tieniti pronto a nuovo ascolto che arriveranno presto i guai parlo di me parlo di te descrivere questo qualcosa di materiale che ti fa vivere toghi in questo mare di onde elettriche erettiche ma i perfetti eclettiche parlo di me parlo di te descrivere questo qualcosa di materiale che ti fa vivere il chiasa non esiste e la marijuana è illegale faccio la parola al mio amico riccardo mister rock'n'roll al mio amico riccardo al mio amico riccardo al mio amico riccardo a te o pari secolo in francese a te o pari secolo in francese parlo di te parlo di te parlo di te scrivere questo fablo di materiale che ti fa vivere toghi in questo mare di onde elettriche ma i perfetti e ac Hunt , no i parlo di te parlo di te descrivere questo è qualcosa di materiale che ti fa vivere toghi in questo mare Grazie a tutti raga